Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con ConfCommercio Notizie. In occasione della cerimonia di inaugurazione della fiera TTG Travel Experience che si è svolta dal 13 al 15 ottobre a Rimini, l'assessore al turismo della regione del Veneto Federico Caner ha tracciato un primo bilancio sull'andamento turistico regionale riferito alla stagione estiva in Veneto. Ha riferito appunto all'assessore Caner che da giugno ad agosto di quest'anno si registrano oltre 35 milioni di presenze, quasi le stesse registrate nell'intero 2020. Il trimestre estivo che ci lasciamo alle spalle regge il confronto anche con lo stesso trimestre del 2019, un anno eccezionale dal punto di vista dei flussi turistici. Con oltre 31 milioni di presenze rispetto ai 38 milioni dello stesso periodo pre-pandemia, un meno 17,9%, possiamo dire che la ripartenza è già iniziata e la vera sfida sarà quella di trattenere gli italiani e i veneti che ci hanno scelto oltre a recuperare le presenze straniere. Solo le città d'arte esclusa Venezia dimostrano di essere ancora lontane dalle cifre pre-covid, sono appunto con meno 17%. I nostri imprenditori, ha concluso Caner, hanno dimostrato di sapere interpretare gli scenari e i cambiamenti imposti dalla pandemia e il Veneto, potendosi avvantaggiare di un'offerta ampia e variegata, ha mostrato una dinamicità che presto sarà d'aiuto per tornare ai livelli raggiunti prima della pandemia. Elaborare e costruire una propria agenda mirata alla sostenibilità ambientale e sociale. Con questo obiettivo, ESAC Commercio Vicenza ha organizzato assieme all'Università di Verona, Dipartimento di Economia Aziendale, il focus group dal titolo Agenda 2030, i nuovi modelli di business per le piccole e medie imprese. L'iniziativa, che si terrà martedì 19 ottobre al Golf Hotel di Creazzo, è un evento finanziato dal Fondo Sociale Europeo ed è a partecipazione gratuita previa iscrizione nel sito www.esacformazione.it. A guidare il focus group, fornendo anche il supporto teorico ai temi trattati, saranno Silvia Cantele, professoressa associata del Dipartimento di Economia Aziendale dell'Università di Verona e vicepresidente della Rete Innovazione Sostenibile, e Lorenzo Orlandi, consulente Locom e presidente della Rete Innovazione Sostenibile. Infine, Silvia Malcozzena, dottoranda di ricerca in Accounting e Management. Per maggiori informazioni, contattare la segreteria di ESAC SPA allo 0444 96 43 00. Tra i settori che stanno contribuendo alla ripresa della nostra economia, quello delle macchine agricole, sta registrando delle ottime performance grazie anche agli incentivi statali. Siamo andati a sentire il presidente dell'Associazione Macchine Agricole e Attrezzi Boschivi della provincia di Vicenza, Alberto Bassanna. Questa settimana ci siamo trovati per fare il punto sulla Fiera di Lonigo, che è stata una volontà di ritrovarsi dopo la pandemia, e programmare Vicenza Agri per quest'inverno, quindi eventi, incontri con il territorio e con i nostri clienti. Grazie agli incentivi statali nell'investimento sulla tecnologia, il settore è in espansione. Le aziende, da quanto è risultato del Consiglio, sono tutte in crescita di fatturato e c'è la volontà anche di assumere. Il nostro settore ha bisogno di specializzazione e di formazione, perché attualmente c'è a disposizione una grandissima quantità di tecnologia, di strumenti validissimi e c'è la necessità di poterli utilizzare al meglio per rendere concreta quella teoria che ad oggi è molte volte sulle pagine, sulla bocca delle persone, ma vogliamo riuscire a trasformarla in qualcosa di concreto. Il tema della formazione è al centro degli incontri del Consiglio e sarà uno dei temi più sviluppati prossimamente, perché la necessità della nostra clientela è quella di avere personale qualificato e questa richiesta viene dalle aziende che vogliono svilupparsi, crescere e utilizzare queste tecnologie. L'utilizzatore del mezzo non è più un autista, ma è un gestore del mezzo, dei dati che esso produce e delle culture, dell'effetto che andrà a fare sulle culture e sul terreno. Il settore agricolo e dei mezzi è in profonda evoluzione in questo momento. Vediamo dei cambiamenti che anno dopo anno si susseguono, delle novità, il prossimo passo sarà probabilmente l'utilizzo di droni o di macchine automatizzate per il trattamento delle culture, quindi c'è tantissimo ancora da sviluppare e da fare. Il futuro è qui. Il prossimo weekend, quindi da venerdì 22 a domenica 24 ottobre, nel Centro Storico di Vicenza ritorna Cioccolandovi. Tre giorni per gustare, passeggiando tra gli stand di noti maestri cioccolatieri dell'ottimo cioccolato in ogni forma e gusto. L'evento organizzato da Confcommercio Vicenza in collaborazione con il Comune di Vicenza è lo sponsor della 50 e più Vicenza. Sentiamo qualche anticipazione dalle nostre interviste. Dopo un anno di assenza, torna dal 22 al 24 ottobre Cioccolandovi, quindi l'evento tanto atteso sia dai cittadini vicentini, da tutta la provincia, ma anche da clienti che provengono da fuori province e anche da fuori regione. Tutte queste iniziative le promuoviamo con lo spirito, sempre più importante, di dare conoscenza alla città. Vicenza è candidata come città della cultura per il 2024. Quindi tre giorni nel mondo del cioccolato. L'evento, la manifestazione coinvolgerà le piazze del Centro Storico di Vicenza, quindi Piazza dei Signori e Piazza Garibaldi. Sono 22 gli operatori per una totale di 40 stand. Operatori che provengono da più regioni d'Italia, quindi sicuramente dal Veneto, ma anche dalla Lombardia, dal Piemonte, dal Friuli, dalla Liguria, per arrivare fino al Molise, ma anche la Calabria e la Toscana. Vicenza ha sempre puntato sulla qualità, una qualità del cioccolato puro, proprio per questo non abbiamo voluto aumentare il numero di espositori. Vogliamo dare qualità, vogliamo che le persone arrivino in Centro Storico a Vicenza, si approcino alla conoscenza del cioccolato negli stand, al conoscere. E quindi tutti gli amanti del cacao e del cioccolato potranno trovare una varietà infinita di prodotti, dai classici praline, alle tavolette, agli spalmabili, piuttosto che i cunesi, i tartufi, i croccanti, quindi tutta una serie di varietà di prodotti che allieteranno sicuramente il palato di tutti coloro che vorranno fare visita al cioccolando. Tutto questo è possibile grazie alla sinergia con il Comune di Vicenza e con 50 e più che hanno appoggiato in maniera forte questa iniziativa. Continuano quindi tutte queste manifestazioni che vedono da una parte Confcommercio driver in ogni iniziativa e dall'altra parte il Comune che in una sorta ormai di collaborazione continua porta avanti con noi tutte queste attività che vanno a vivacizzare in maniera sempre più continua la città di Vicenza in tutto il periodo dell'anno. Tutti i programmi poi li potrete vedere su isivi.it, un portale in cui sarà spiegato tutto quello che succederà nel centro di Vicenza ma in realtà in tutta la città di Vicenza, una collaborazione con il Comune di Vicenza e IEG, la Fiera dell'Oro, proprio per dare un'internazionalizzazione sempre di più a quello che sono le iniziative su Vicenza, città e non solo. Ed ora altre interessanti proposte. ESAC Formazione propone i mercoledì 10, 17, 24 novembre e il primo dicembre dalle 20 alle 23 il corso Branding e valorizzazione del marchio, analisi delle applicazioni concrete degli studi sul brand in relazione con il marketing, soprattutto in termini di percezione cognitiva ed emotiva del cliente. Lunedì 15, 22 e 29 novembre, dalle 9 alle 13, corso sull'uso avanzato di Facebook. I partecipanti potranno acquisire le competenze necessarie per sviluppare brief creativi basati sull'intuizione e migliorare l'impatto della creatività mobile utilizzando l'uso di Facebook, Instagram e Messenger. L'Università del Gusto propone un corso per professionisti, la caffetteria per il bar, martedì e giovedì 23 e 25 novembre, dalle 19 alle 23. Il corso fornirà ai partecipanti nozioni sul caffè e tecniche per l'utilizzo della macchina per il caffè espresso. Inoltre si lavorerà sulla creazione di cappuccini tradizionali ed altre preparazioni a base di latte. Ostriche d'autore è il titolo del corso per professionisti che si terrà martedì 30 novembre, dalle 9.30 alle 15.30. L'Università del Gusto propone infatti un viaggio tra i frutti di mare più ricercati e amati con lo chef Gianluca Tomasi, con cotture e abbinamenti particolari pensati per il mondo della ristorazione. Ed ora l'agenda! Lunedì alle 20.00, Assemblea del Centro Storico della Delegazione Comunale di Marostica. Martedì alle 14.00, incontro Agenda 2030 e nuovi modelli di business per le piccole e medie imprese. Sempre martedì alle 14.30, webinar, EDI, Smart Working, il futuro del lavoro. Mercoledì alle 20.00, Comitato Fidi Impresa. Alle 12.30, Consiglio della Sezione Territoriale numero 2 di Vicenza. Giovedì alle 8.00, Consiglio della Delegazione Comunale di Creazzo. Venerdì alle 13.00, inaugurazione di Cioccolandovi, dal 22 al 24 ottobre. Venerdì alle 14.00, Consiglio dell'Associazione Provinciale Agenti e Rappresentanti di Commercio. Alle 14.30, Consiglio della Sezione Territoriale 4 di Vicenza. Alle 14.30, webinar della FIMA Forma, le novità normative in materia urbanistica ed edilizia. Sabato, in Centro Storico, Manifestazione Cioccolandovi 2021. Domenica, sempre in Centro Storico a Vicenza, la Manifestazione Cioccolandovi 2021. E per quanto riguarda questo appuntamento con ConfCommercio Notizie è davvero tutto. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento a domenica prossima. Una rivederci e buona settimana. Grazie. 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 Grazie.